Sequestrate dalla Guardia di Finanza di Pordenone 12 ville di pregio, tre terreni edificabili, un appartamento e un locale commerciale. Si tratta di beni appartenenti a due famiglie rom, residenti tra la provincia pordenonese e quella veneziana, che al fisco risultavano nullatenenti. Gli indagati, con modalità illecite, erano dediti al commercio di autovetture di grossa cilindrata, tra cui Ferrari, Lamborghini e Porsche. Oltre alla costruzione e vendita di ville di lusso e la lucidatura e doratura degli arredi sacri di proprietà della Chiesa. Nei loro confronti pende la richiesta di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniale, in quanto si ritiene che vivessero abitualmente con i proventi di attività delittuose.